Bene ragazzi sono Marci e benvenuti in questo nuovo video, oggi volevo essere schiettissimo perché ragazzi oggi con Alice abbiamo aperto una sfida di quelle sfide ma sfide sfidose Se arriviamo a mille like a questo video in questa mappa inizieremo una survival e quindi ragazzi ora dovete spolliciare come dei matti perché veramente ragazzi io ci credo che ci possiamo arrivare Quindi ragazzi vi lascio all'intro, bella, lasciate un bel like Secondo me è detto che ci sono alberi un po' ovunque dovremmo fare una survival Ma ci burlone Benvenuti a tutti ragazzi sono Marci e benvenuti in questo nuovo video della mondo sottosopra serie craft Con Alice Podish Craft ciao Ali ciao ehi devi salutare Ehi ciao tutti amici Ehi gente del tubo io sono Alice Podish e oggi siamo Che cazzo non ho ricordo Aspetta non mi ricordo Io non mi ricordo come cacchio Aspetta Questa cosa è traumatizzante Aspetta ok No ma stiamo scherziamo ma guarda un po' questa cor Io sono dritto Che nevicheria Sì dritto ma è Sì Sei morta dai morta No non sono morta mi hai morto Cos'è che hai dentro mia Io sto salendo in perterrito E qui che cazzo No sono vivo Sono morto Ho vinto la morta in diretta Ok ok Int jump from the grey pad Eh ok sì va bene One thing I can do jump Devi jumpare in Oh ce l'ho fatto a primo colpo Ma dove cacchio sei Ma eravamo di fianco Non potevo Tutto sto casino per andare nel coso di fianco Dove sei? Non ho capito dove sei finito Buttati Come vabbè Buttati te basta La vedi poi Buttati do Tu lanciati Ma no è lì David Per terra c'è una buca Non ce la farei mai Tipati va Ma io non ho capito qual è lo scopo di questo gioco Secondo me non ha uno scopo Lo scopo è farci stare male Perché io dopo aver registrato sta serie mi sento ogni volta male Sì perché mi viene male From the pad Come cazzo faccio No non mi dire che sei morta Non me lo dire Non me lo dire Non me lo dire No no tranquillo Oh ciao Ali Sono sempre qui Ma dove bisogna arrivare Ali non sto capito Senti se vuoi balziamo direttamente andiamo nella pozza lì Qua devi arrivare No 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 Aspetta C'è sta mappa qui assurdo veramente Oh ciao Allora con calma Vai su È una cosa troppo strana sta mappa No 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 If you wanna be malava Ganga in Porca trota Avevo visto volarci vicino Andare Oh Ali ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Tipo ti ce l'ho fatta Sì minchia Non so come ho fatto però Ma si può compro Della morte Ma fa un culo Marci di merda Citi come lo schifo Ma fa un culo Ti è secondato giusto Perché non ho voglia di farmi fare tutto quel pazzo Ah marci di merda Ma come accade Non sono morta Non sono morta Dove cosa faccio Dove sono cosa faccio No aspetta No ti prego Marci sono mancata Ti prego quando sei Schiaccia io mentre sei così Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio ma cos'è Ma c'è vivo Ali canta No aspetta 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 Io sono finito in un po' C'è una casa Mi sa che devo scendere di qua Prima ti parti Ma che cos'è Io non ho capito Qual è lo scopo di questa mappa Cioè proprio non l'ho capito Ma tu vuoi che te lo dico sinceramente O vuoi che non sono sincero No no io voglio sincerità Non lo so neanche io Io l'ho scaricata Sembrava carina No ma la mappa è bella Ma non è uno scopo Cioè non è che dici Oh trovo un diamante Bella Oh trovo un diamante Oh bella Oh mio dio Oh mio dio Cioè tipo che Sto scendendo 40 piani Sono tutti uguali Però sto prendendo le porte Oh finalmente grazie Ecco ma che cazzo Ma aspetta E mo dove c'è Dove siamo? Ma non è che tipo c'era una storia Dietro questa custom mappa Ma che cazzo ne so No ma aspetta Vabbè vieni ho trovato la banca dell'america No aspetta Cioè il banca informazioni Vieni a chiedere Sono qui per chiedere informazioni Riguardo questa città Va bene non le do un panino Grazie Molto gentile Davvero Ma la seconda dove usci Ma non ha senso Ma da dove c'è Oh 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 Vedo un Indiana Road Vedo un palazzo No ma dove No lì dove dobbiamo andare Io non ci sto capendo assolutamente Ti cago in sui ranci Ma scusa una cosa Cos'è sui ranci Dove che sono le cose Tua zia è sui ranci Eh? No ma che dobbiamo andare Ma se ci sono i salti da fare qua Bisogna salire in forza No 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 Adesso troviamo Schifo Adesso troviamo E preso te quando hai gli occhi lucidi Perché rutti veramente male Che ti sale tutto Eh io stavo per sboccare adesso Talmente ho ruttato male Forse sono cose che non dovrei dire Però vabbè Ti prego Non tagliarlo No no Sei un uomo Non tagliarlo Se sono un uomo Vuoi vedere che lo carico senza tagli Perché vado così veloce? Ma perché non so dove sei? Ali ma non si capisce una sega Ho trovato dove andare Sì Davvero? Forse No per un cazzo Però Così Aspetta tipati Noi siamo arrivati da qua Tipati tipati No aspetta No un attimo Ma che Non lo voglio affotta Sì No aspetta Però seriamente Siamo arrivati da Aspetta rifallo Rifallo Ok Ci sei Ci sei Ci sei È morto allo stesso Ma perché? Ma perché? Allora Distruggiamo sta merda di mappa Che non si capisce nulla Di quello che bisogna fare Salto guarda Sì È giusto È giusto Vieni qua Oh Fatti tanto Ok Quando ti metti così Mi era molto brutta Ok Arrivo eh Io ti butto Aspetta ma il pane soffre di gravità quindi Sti scherzando? Dove va il pane? Dov'è? Ma che? Aspetta Voglio alzare il pane e guardarmi Dov'è? No cade 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 Sì sì cade No ma è bellissimo Ma seguite Hai capito? Aiuto Jump again Ah vabbè Andare qua sotto Guarda di là Sono a cascata molto più zue Del previsto Oh lo prendo Non prenderla Diciamo che è per deficienti Ecco qua Io stavo per mancarla Ma vabbè Allora E adesso? No ma ci siamo dove eravamo prima È ok Questo è il buco che ha fatto il creeper Io sto salendo Io sto salendo Perché io può Ma stai salendo dove Se non c'è posto per Ah da qui Che non c'è posto per poddish Che cazzo è dentro? Ma perché? Ma io qua sto salendo però Ma non posso salire più di così Ma dai davvero? Pensavo se stai salendo Ma non posso salire più di così Quindi boh Come no? Più di così Più di così Più di così Io non lo metterei A metà di una mappa Entri di mappa Non ha senso No 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 Dove dobbiamo andare? Boh io sto sentendo Nella banca Marci in formati veloce Quanti soli devi prelevare Sui pigmoni della partner? Ali devi parlare Devi cantare Devi farci qualcosa Per No ma ci sto concentrando Cioè non posso Capito? Sto pensando Adesso mi stai diludendo No 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 Mi stai diludendo Questa mappa deve avere un senso Mi stai diludendo troppo Un sentiero Un sentiero che mi conduce al municipio Al municipio c'è una pecora nera La picchio e va in galera No aspetta No aspetta Puoi ripeterla Quei cazzo hai detto? No E adesso Ma dove bisogna andare da qua? Non lo so Marci tu sei un... Si Ho trovato Ho trovato Ho trovato Ho trovato Ho trovato Ho trovato Il vento Cioè l'abbiamo già fatto sto pezzo Non si capisce un cazzo Si muore Buon andiamo qua dentro Ho sbagliato Ormai Questa qui non è più una mappa Una mappa parco Una mappa avventura Per capire cosa bisogna fare Secondo me Dato che ci sono alberi un po' ovunque Dovremmo tipo fare una survival No ragazzi Ragazzi No ragazzi Se E fare le gare di grattacelo No ragazzi Se arriviamo a mille Mi piace a questo video Io prometto Che inizierò una survival In questa mappa Poi ti svegli Tutto sudato Sudato No Rotti i piedi I piedi Cos'è Aspetta Qui c'è il terminal C'è l'aeroporto O qui c'è l'aeroporto Come te Lato Terminal Dov'è l'aeroporto? Ma che cazzo stai dicendo? Cos'è che stai dicendo? No ma io non sto capendo niente di sta mappa Veramente Non ci sto capendo niente Ma vabbè ragazzi Per questo video è tutto Io spero che questo video vi sia piaciuto Noi non sappiamo cosa dobbiamo fare Però ragazzi Se arriviamo veramente a 1000 like Iniziamo una survival su questa Su questa mappa Mi raccomando Arriviamo veramente a 700 mi piace Passate dal mio canale Iscrivetevi sotto il mio ultimo video Alice La più brava del mondo Fantastica Bellissima In the world Forte E brutto E da questo Per questo video è tutto Noi ci vediamo al prossimo video La macchia è tutto Bella Ciao